amici di alessandro tech world buongiorno e benvenuti in questo nuovo video oggi vi presento una configurazione guidata passo passo di questo prodotto che è un mini pocket router ma che io definisco multi mini pocket router perché è un routerino che può fungere in cinque modi diversi dopo lo scoprirete nel video di configurazione il prodotto in questione è il tl vr 710 n un prodotto da 150 megabit quindi un prodotto in classe n tre anni di garanzia come tp link ci ha abituato e questo è il contenuto della confezione c'è il prodotto e qui manca un piccolo adattatore che dopo vi farò vedere perché all'interno della confezione confezione che comprende appunto l'adattorino con presa scusate spina da 10 italiana che dopo vedremo una quick installation guide un manuale di istruzioni sotto forma di cd che praticamente l'utilità è 0 una quick installation guide ancora un po troppo laborosa la quale utilità è ancora 0 la quick installation guide un attimo mettiamo da parte questo la quick installation guide ve la faccio un attimo vedere vi parla anche del contenuto del packaging e vi parla anche di cosa ripara anche di quella che è l'installazione del prodotto quindi vi dice sostanzialmente qui ecco qui vediamo il contenuto del packaging mi fa vedere l'adattatorino un cavo ethernet il cd e la quick installation guide che in acronimo viene definita qig vi fa vedere che nel nel prodotto c'è sull'etichetta il nome della rete wireless e la password per collegarsi al prodotto che dopo vi farò vedere l'utilità e vi fa vedere anche come si inserisce la data collegarlo poi alla corrente quindi fa vedere alcuni tipici usi nella modalità access point quindi della modalità anche wireless router repeater mode client mode e modalità uisp e queste sono le istruzioni per configurare il prodotto dopo spiego bene anche cos'è le cose sono le varie modalità e vi spiego anche come configurarle eccolo qui il prodottino andiamo inserire l'adattatore che si inserisce in questo modo ci sono due binarietti qua non so se riuscite a vederli qui anche dentro vedete quindi vanno incastrarsi ed ecco qua pronto si accende qua non c'è nessun tipo di tasto e con sotto le due porte fast ethernet la porta lan e la porta la un guanno nella modalità wireless router mode dovete collegare il cavo che vi arriva dall'antenna di eolo di ngi oppure di link nella porta one e poi una porta usb per condividere per esempio un hard disk e qui il forellino di reset dietro abbiamo l'etichetta dove vi viene menzionata il nome della rete wifi alla quale dovete collegarvi necessariamente per connettere il prodotto e poco più sopra la wire password pin il mac address il modello e anche il seriale del prodotto varie specifiche e per questo è terminato in questo video vi faccio vedere vi spiego soprattutto le cinque modalità operative di questo prodotto e vi spiego cosa servono differenze analogie e poi vi spiego al lato pratico cosa vi possono servire ok ragazzi adesso per configurare il nostro routerino dobbiamo necessariamente collegarci alla rete wireless che lui crea ci possiamo collegare o con guardi soppure con cavo io per questione di comodità mi collegherò a via wireless la rete wireless che crea momentaneamente il routerino la trovate sotto al routerino anche la password perché di fatto chiede anche una wireless password che c'è scritta sempre sotto sotto l'etichetta ragazzi una volta connessi chiaramente non avremo internet perché il routerino non è ancora configurato per accederci dobbiamo inserire l'indirizzo ip del routerino che non è altro che 192.168.0.254 facciamo invio verrà richiesta nome utente e password metterete come nome utente admin e come password ancora admin faccio lo spelling ancona domodossola milano imola novara quindi ripeto ancona domodossola milano imola novara fate invio e riuscirete ad accedere magicamente alla pagina di configurazione premete quick setup next e poi configurate seguendo la modalità che più preferite e che vi spiegherò successivamente ok adesso vi spiego un attimino le funzionalità di questo mini pocket router perché ha diverse modalità di utilizzo abbiamo la modalità wireless router la modalità access point la modalità repeater e la modalità client e ancora la modalità wisp client router fatemi spendere giusto cinque minuti per spiegarvi queste cinque modalità che sono fondamentali allora la prima modalità wireless router la modalità wireless router di solito si utilizza nel momento in cui avete un provider wimax hyperlan eccetera quindi un provider che vi fornisce connettività tramite un'antenna perché questo perché la modalità wireless router prevede la possibilità di collegarsi all'antenna in pppoe per esempio o al router in pppoe o se avete magari soltanto tre indirizzi p i vecchi modem di faste avevano tre indirizzi p quindi voi potete prelevarne uno utilizzarne uno la poi la possibilità di collegare ancora 254 dispositivi perché questo di fatto crea una nata se dovete necessariamente ampliare la vostra rete wireless e nella stessa rete wireless ampliata collegate dei dispositivi che ai quali volete accedervi dare moto usate questa modalità molto cautamente perché crea una nata nel caso in cui scegliete wireless router mode il prodotto si riavvierà e vi apparrà questo menu come vi dicevo la modalità wireless router prevede che ci sia un ingresso da una connettività in ethernet quindi la modalità wireless router è condizione essenziale che un segnale arrivi con il cavo ethernet dall'antenna e in network vedete che in one avete la possibilità di connettere il routerino tramite la parte one alla vostra antenna con dynamic ip static ip oppure pppoe per esempio io lo utilizza il pppoe per esempio link potete connetterlo anche in dynamic static ma anche qui si apre una parentesi siccome link già nata l'antenna e non abilita il pppoe per quale motivo dovremmo utilizzare un router che mi crea due nat bene prendete la modalità checkpoint se avete link finito fatemi le domande vi risponderò sono troppo configurazione di nicchia se poi faccio 3000 considerazioni sto qua tre ore allora quindi static ip dynamic ip e quant'altro vedete questa è la condizione essenziale quando vedete una configurazione tipo one vuol dire che fate routing nella poi nella parte lan rilascerà con altri indirizzi ip differenti quindi dovete andare in one e configurare il cavo che arriva dall'antenna in pppoe se avete dinamico static se avete eolo pppoe oppure se avete per esempio altri tipi di provider chiedete se potete collegarvi in dinamico in static se vi collegate in dinamico in static collegatevi anzi in static e l'indirizzo ip che utilizzate che è della rete in classe dell'antenna fatevelo mettere in dmz perché altrimenti avete il doppio e nat dopo se avete le domande poi eventualmente me le fate la modalità access point invece cosa fa la modalità access point acquisisce un indirizzo ip della vostra rete e vi espande il wireless quindi prevede che al routerino ci sia un cavo ethernet che arriva dal modem router questa è condizione essenziale o da uno switch da un altro router da quello che volete ma ci deve essere qualcosa che gli da un indirizzo ip tramite cavo questo è un vantaggio perché non ha non crea una nat di conseguenza avete tutto sulla stessa subnet tutto sulla stessa rete perché di fatto è un access point che differisce dal router bene chi non sa la differenza tra access point e router meno 100 punti la modalità access point invece appunto non vi crea un'altra nat quindi questo prevede che in network non ci sia la parte one lui il routerino vuole condizione essenziale il collegamento di un cavo ethernet dal modem router da un router da qualsiasi altra cosa per esempio se avete link condizione essenziale che ci sia un cavo che arriva da link entrerà nella parte lan del 710 n acquisirà un indirizzo in p in dhcp sulla rete che poi avete tipi link avrà avrete internet magicamente basta questa è condizione per configurarlo tutto il resto altri menu inutili di hcp non andate ad attivare nulla non serve a nulla la modalità repeater invece è una modalità che serve per prelevare la rete wireless e riestenderla la differenza tra la modalità access point repeater è che il repeater non chiede che ci sia un cavo ethernet la modalità repeater cosa fa la modalità repeater riceve il wireless e lo ritrasmette quindi nelle porte lan non ci dovete collegare nulla lo mettete all'estremità della rete wireless e lui ve la riamplifica avete già visto n video dove faccio le video configurazioni e spiego cos'è un range extender se non l'avete mai visto ne ho fatte a bizzeff e guardate i miei precedenti video la modalità repeater prevede che come condizione essenziale non ci sia collegato nessun cavo ethernet sul routerino ok la modalità repeater preleva un segnale wireless e lo riestende però per quanto riguarda la modalità range extender vi consiglio di operare sempre dal quick setup quindi andate tra il quick setup qui fate il survey vi appariranno le reti wireless che sono nel raggio d'azione del prodotto fate connect qui mettete la password che serve per connettersi alla rete netgear 47 quindi la rete che il telefono samsung il telefono apple chiede quando lo collegate alla rete netgear 47 la dovete inserire qui farete poi next finish lui perderà l'identità quindi questa rete tipi di bla 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 sparirà e ci saranno due reti netgear 47 sì per gli analizzatori wireless per i cellulari ci sarà un'unica grande rete quindi non vedrete più due reti distinte non sapete a cosa siete collegati qui non potete mettere la dicitura ext non potete per differenziare le due reti se volete differenziare le due reti la vostra funzionalità che dovete scegliere è wisp client router che vedremo dopo la modalità invece client è una modalità per gli appassionati di mysky o in generale dell'on demand o di mediaset premium perché perché la modalità client non genera nessun tipo di wireless quindi non andate a incrementare diciamo l'inquinamento nella vostra abitazione questa modalità la modalità client va bene per sky per collegare il mysky per esempio via cavo o meglio non avete la possibilità di collegare il mysky via cavo collegate questo 710 n che lo chiameremo routerino lui preleverà la rete wireless e la darà al vostro mysky la differenza tra le modalità c'è spawn repeater e client è che lui non va a creare un'altra rete quindi fa solo da ricevitore per così dire e non la riamplifica quindi non avrete un'ulteriore rete non avete dell'inquinamento questa modalità appunto come vi ho già detto è utilizzata dagli amanti dell'on demand quindi da chi utilizza sky da chi vuole collegare la playstation e per esempio non ha la possibilità di collegarlo con il cavo ethernet da chi vuole collegare mediaset premium e non ha la possibilità del cavo da chi per esempio ancora ha un pannello solare il quale vuole gestire da remoto e non ha la possibilità di collegarlo in ethernet insomma riceve il wireless lo tramuta su trama ethernet e lo trasmette al vostro device ecco adesso tramite il quick setup vi faccio vedere la modalità client la modalità client prevede che non si estenda a nessun tipo di rete quindi non avete inquinamento ulteriore perché lui non emanerà nessun tipo di rete wireless farà solo da ricevitore farete survey cliccherete sulla vostra rete che volete appunto ricevere per collegare cosa? per collegare per esempio il vostro mysky eccetera fate connect mettete la password come range extender soltanto che questa modalità prevede che non si trasmetta un'ulteriore rete wireless questa modalità è adatta nel momento in cui non volete troppo inquinamento radio nell'abitazione la modalità invece Wisp Client Router serve nel momento in cui voi volete ricevere una rete wireless di un provider Wimax questa è una configurazione analoga alla wireless router ma riceve scusate la modalità repeater riceve il wireless dal vostro provider quindi non richiede nulla collegato in ethernet e vi crea una NAT e vi crea una sottorete quindi questa è una particolare configurazione di nicchia che di solito anzi di solito si usa nel momento in cui dovete ricevere un wireless nattarlo e voi direte beh ma non è la wireless router no perchè la wireless router è la condizione essenziale che abbia collegato un cavo ethernet mentre invece questa no perchè e allora voi potete dire si ma anche il repeater non era condizione essenziale che c'era un cavo ethernet collegato nel routerino bene però la modalità repeater cosa fa? prende la rete via wireless e la riamplifica qui invece prende la rete wireless e non amplifica nulla fa routing quindi gestisce per esempio multi ssd voi ricevete una rete wireless pippo per chiamarla sempronio la modalità wisp client router è una modalità carina perchè serve nel momento in cui voi volete ricevere una rete wireless volete estenderla ma avete la necessità di per esempio modificare una password oppure magari la rete che volete estendere non ha la password e quindi voi volete crearla come prima condizione essenziale necessariamente dobbiamo dirgli come acquisire l'indirizzo ip dalla rete wireless che riceviamo quindi in questo caso dynamic va benissimo non c'è nessun tipo di problema ecco qui ora un po' più complicato questa modalità è molto carina perchè praticamente serve nel momento in cui voi avete una connettività wireless volete riceverla però volete modificare alcune informazioni per esempio il range extender quando ricevete la rete wireless del range extender con qualsiasi range extender non avete la possibilità di modificare nome e quant'altro per esempio io ho la rete pippo la voglio estendere bene la rete diventa pippo ext ma se questa rete non ha la password la mia rete estesa non ha anche lei la password invece con questa modalità possiamo crearla noi come si fa? sempre survey lui troverà una serie di reti nel raggio d'azione del routerino in questo caso la mia è sempre netgear 47 che adesso è sparita perchè l'ho spenta vabbè mettiamo che una a caso questa mettete la password qui va bene tutto così mettete la password che serve per collegarsi a questa infostrada e lui creerà una rete che avrà il nome che deciderete voi per esempio alessandro privata metterete una password che volete voi per esempio questa fate beh fate next lui finalizza e voi cosa avete? il risultato qual è? io ricevo una infostrada e ricevo perchè ho la password che la inserirò qui ma creo un'altra rete wireless mia personale con una mia password personale questa è una metà fondamentale nel momento in cui avete la necessità di modificare queste cose è una funzione che è veramente molto molto utile